Bella ragazzi, buonasera, oggi voglio praticamente riuscire a finire la serie dei scenari, almeno quelli del capitolo 1, siamo quindi allo scenario 1-18 il nostro caro Enzo, quindi solo 88 degli V1, mi ha dato una squadra che dama, Goblin, Apollinio, Segugio e Creatore ma praticamente per me è troppo difficile, cioè io non ci riesco a giocare con quella squadra che mi ha dato quindi praticamente ho fatto un cambio di eroi. Allora, lo scenario 1-18 è veramente difficile, è veramente difficile in quanto praticamente abbiamo due piccoli problemi un problema è un assassino che praticamente viene a rompere praticamente le scatole e il secondo problema è un'arcera che è veramente forte è veramente forte e ci devasta in sostanza, quindi sto praticamente facendo delle prove con dei miei eroi allora abbiamo già Apollinio che praticamente ha la frutta, quindi lanciamo subito una cura poi cerchiamo di capire, eh niente è morto, allora, riproviamo subito riproviamo subito, speriamo che Apollinio va un po' più avanti di prima sta già praticamente morendo, cerchiamo di stunnarli perfetto è arrivato il supereroe qua dietro, l'erore mascherato, cerchiamo di abbatterlo il prima possibile ok, è abbattuto e lanciamo la cura perfetto siamo arrivati allo scena, al round 2 allora il round 2 è quello un po' più tranquillo rispetto all'1 e al 3 oggi praticamente Apollinio non è in forma, vedo che si presenta quelle mazzate allora cerchiamo di di capire un attimino se la situazione è gestibile molto bene, molto bene ragazzi eh praticamente siamo arrivati adesso all'1 e al 3 dove c'è la parte difficile allora non ho ancora capito se devo andare a devastare subito l'assassino o praticamente prendercela subito con l'arcera allora intanto curiamo perché abbiamo bisogno di tanta cura allora cerchiamo di bloccare subito questo abbiamo perso Apollinio ragazzi, Apollinio è perso abbiamo perso anche Cavallerosa avete visto? Un miliardo di frecce in faccia si è beccata proviamo a cambiare ancora la squadra vediamo un attimo cosa fare allora proviamo a togliere ancora proviamo così anche se non ne sono molto convinto non ne sono molto convinto infatti infatti non mi piace allora allora vediamo un attimo rimettiamo Apollinio perché Apollinio comunque è importante che lui stunna e ci serve che stunni chi è che posso togliere? Bombarolo Bombarolo che è fortissimo lo cambio con Pirica allora però Pirica secondo me si prende più mazzate di Bombarolo ok molto molto bene comunque ho sbagliato a mettere Pirica forse sarebbe stato molto meglio usare Dama Dama al posto di Pirica Dama al posto di Pirica forse andava meglio allora cerchiamo di bloccarla praticamente subito cerchiamo di recuperare un po' di tempo siamo riusciti a salvare Apollinio ma per un pelo abbiamo bloccato anche l'arcera Apollinio ce lo siamo giocati male ragazzi però sembra che ce l'abbiamo fatta ragazzi mamma mia ragazzi avete visto ci va fortuna allora praticamente siamo riusciti a finire lo scenario 1.18 del primo capitolo quindi tutti i capitoli sono praticamente finiti quindi praticamente siamo a posto ok si è aperta praticamente questa nuova modalità quindi questa nuova modalità ve la farò vedere poi magari in altri video adesso il video è finito bella a tutti e alla prossima ciao ragazzi